Ci colleghiamo proprio in diretta con il Palacolle dell'Ara, con la nostra Marina Moretti. Buon pomeriggio Marina. Buon pomeriggio a te Carmine e ai nostri telespettatori. Sono proprio qui al Palacolle dell'Ara in compagnia del Sindaco di Chieti, Diego Ferrara, l'instancabile vaccinatore che salta da un posto all'altro per mettersi a disposizione e contribuire da medico anche alla campagna vaccinale, in ambulatorio, nella farmacia comunale, anche quando serve nella sede del centro vaccinale. Perché siamo venuti qui? Perché c'è stata una lettera nei giorni scorsi di tutti coloro che si è delle associazioni volontari, della protezione civile, che si occupano di vaccini, che è una lettera disponibile, non polemica, ma semplicemente che chiede un maggior sostegno per alcune situazioni, cominciando naturalmente dal fatto che il personale è sempre poco e che è sul campo da un anno e mezzo, per i vaccini ma anche per i tamponi e quindi con difficoltà anche di rotazione di questo personale. E poi c'erano degli aggiustamenti logistici, direi quasi, cioè di riuscire a coprire maggiormente l'ingresso qui dal centro di Palacolle dell'Ara perché il freddo di questi giorni ha creato qualche problema alle persone in fila e anche dei pannelli di plexiglass all'interno invece per il personale che ha a che fare con chi si viene a vaccinare e vuole essere maggiormente protetto. Si sta già provvedendo e vedo che ai nostri lati sono già arrivati questi teli che un pochino riparano l'ingresso e deve arrivare altro, giusto Sindaco? Certo. Allora diciamo questo, tanto per ricordare alla popolazione l'impegno che la ASL e il Comune, quindi le istituzioni, stanno mettendo da mesi se non da anni per il bene e la salute della città. Allora, per quanto riguarda le competenze, i cittadini sanno che queste sono state stabilite da tempo. La ASL mette a disposizione il personale sanitario, quindi infermieristico e medico, tutti volontari. Il Comune mette il luogo, quindi la logistica, in questo caso il palazzetto di Colle dell'Ara che si è prestato in maniera efficiente allo scopo. mette gli amministrativi sempre volontari per la parte compilativa dei moduli e la protezione civile. Orbene, tutte queste persone che stanno operando da un anno e mezzo, come lei diceva, prima con lo screening per i tamponi e adesso con i vaccini, sono arrivati allo stremo perché sono persone come noi, come tutti, come coloro che fanno la fila tutti i giorni per venire a vaccinarsi. Loro, e io ne ho fatta la prova venendo a vaccinare in questa sede, noi quando sono venuto, nei giorni che sono venuto, in pratica si inizia alle 8 e mezza, di mattina si termina alle 4 e mezza, alle 5, senza quasi poter prendere neanche un caffè o un panino perché l'attività è continua. Allora, queste persone devono avere un ricambio, assolutamente. Il materiale umano è essenziale, è difficile da reperire perché ovviamente non solo perché il lavoro è gratis ma perché il lavoro è anche duro. Quindi, che devo dire, da un punto di vista logistico ci stiamo attrezzando. Mi faccio precisare una cosa, Sindaco, tra l'altro, che se non vedete nessuno, è perché oggi comunque alle 13.30 qui si chiude, è sabato, e le persone che sono dentro, che è abbastanza invece pieno, sono il residuo, insomma, di quella che fino a poco fa era una fila, non esagerata, ma comunque gente dentro a vaccinare. Forse troppo successo mi consenta questa forzatura della campagna vaccinale? Ma, guardi, le persone che vengono e che vogliono vaccinarsi è perché al 90% sono convinte di dover fare appunto la dose richiamo. Un 10% è formato da persone che, anche se avevano delle titubanze, hanno dovuto vaccinarsi per motivi di lavoro e quindi di note governative, sta di fatto che ci sono state alcune giornate in cui le prenotazioni superavano quelle che la ricezione del centro poteva espletare, poteva soddisfare. In più ci sono giornalmente decine e decine, a volte centinaia di persone non prenotate. È chiaro che noi non rimandiamo indietro nessuno, ma del disagio è inevitabile che si abbia in determinate giornate. Qui si è arrivato a vaccinare anche 6-700 persone al giorno. Direttore, se hai domande, altrimenti posso solo chiedere al Sindaco magari come ci si sta organizzando per la vaccinazione per i bambini che partirà dal 16 dicembre e per i bambini dai 5 ai 11 anni. Marina, anche se si sta pensando, proprio alla luce di questo ulteriore carico, ad una nuova sede? Ad un'altra sede, sì. So che il Sindaco la sollecita, ha un'ulteriore sede anche proprio per questa nuova vaccinazione rivolta ai più piccoli. Allora, io ho sollecitato e sto chiedendo ancora la riapertura dell'ex ospedale Santissima Annunziata, quello che noi di Chieti chiamiamo l'ospedale vecchio, quindi al centro della città, che ha funzionato bene durante la prima fase della vaccinazione e potrebbe essere riaperta facendo un sacrificio, la ASL, per trovare personale sanitario. Noi, altrettanto sacrificio, facendo e trovando personale per la protezione civile e a tale scopo ho fatto giorni fa domanda attraverso una lettera, attraverso una PEC alla protezione civile regionale di mandarci altre persone, almeno 10, perché per ogni turno occorrono almeno 5 persone che possono dare sollievo a coloro che già lavorano. Se la ASL ci dà una mano in questo senso, potremmo riattivare quel centro vaccinale e potremmo riutilizzarlo intanto per i bambini, per non farli aspettare qui molto tempo. Però mi creda e mi credano anche i cittadini, stiamo veramente facendo di tutto. Quindi io non è che non veda le criticità, le criticità ci sono per l'amore di Dio, però veramente stiamo facendo tutti il massimo, con il massimo sforzo, il massimo sacrificio, la massima volontà per venire incontro alle esigenze della popolazione. Allora Carmine, con Andrea Berardinelli possiamo anche, alla telecamera possiamo lasciarci qui, aggiungo solo che fra, oltre alle coperture e ai pannelli di copertura che circonderanno questi gazebi e che sono in arrivo, dovrebbero arrivare anche i cosiddetti funghetti, insomma quelle bombole che possono anche riscaldare le persone che saranno in fila qui, anche perché l'inverno sembra essere arrivato proprio da qualche giorno. Grazie. Se non hai domande è tutto. Grazie, 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 grazie anche al sindaco di Chiedi naturalmente.